Con oggi, secondo me, c'è un punto fondamentale. Io quando domani farò la conferenza stampa su un'altra cosa i giornalisti mi chiedono a loro cosa fai con Berlusconi. Non sono io a dover decidere. Non sono io a dover decidere. Il tema dell'euro non è mai stato messo in discussione e il basta euro, come avete visto, è stato indicato come unico programma possibile della Lega. Qualora, ovviamente, Berlusconi non l'avesse accettato, si annunciava la volontà di andare da soli, perché non si poteva sedere al fianco di chi sta in Europa con la Merkel. Per cui la mia condivisione verso quanto prospettato da Salvini era totale. Perché non sono entrato in quel momento? Perché pochi mesi prima la Lega aveva concluso, invece, le alleanze relative alle elezioni amministrative. E ci stavamo avvicinando a una nuova tornata amministrativa. Nelle elezioni precedenti, tra cui anche in Liguria, la Lega era andata con Forza Italia, dimostrando ancora una volta che le poltrone, in definitiva, prevalgono sempre su quella sostanza di merito che Salvini aveva, invece, enunciato. Per cui temevo sicuramente il peggio e sono rimasto prudente anche dopo quell'intervento. Oggi, invece, posso chiamare Matteo Salvini sovrancazzaro, hashtag che a questo punto userò sempre, sto già usando in questi giorni. È inutile andarci giù piano, inutile utilizzare mezze misure oppure linguaggi più educati o più continenti, perché questi sono dei traditori della patria, poltronisti traditori della patria. Il video è chiaro, il programma doveva essere il basta euro e non con Berlusconi, costi quel che costi. Il programma è stato allearsi con Berlusconi senza l'uscita dell'euro nel programma. I traditori della patria sono presenti ormai in tutti i vari paesi europei. Abbiamo già visto il tradimento avvenuto da Sirisa in Grecia, abbiamo visto l'inversione a U della Le Pen sul finale della campagna elettorale. Siamo blindati, il potere economico controlla tutto e i profitti personali di questa gente disattivano ogni forma di dissenso. La Lega è una grave minaccia per il paese, dobbiamo sconfiggerla, come dobbiamo sconfiggere l'altra falsa opposizione che è il 5 Stelle, che si è già svelato infatti da più tempo ancora della Lega Nord, ha abbandonato la posizione no euro, per cui questi sono i veri nemici, ancora più di un PD che quantomeno nella sua azione devastante per il paese, non ha mai negato di essere un partito che vuole cedere la nostra sovranità e vuole gli Stati Uniti d'Europa, mentre questi erano coloro che dovevano essere l'opposizione. Il basta euro della Lega non esiste più, oggi ci parlano di battere i pugnettini sul tavolo. Sovrancazzari, traditori della patria.